amici di santina buonasera vi saluto da lugano guardate che bello il lago il lungo lago questa sera abbiamo presentato questa sera ivo necce l'ultimo dei nostri libretti volti di speranza scritto da monsignor giovanni daniello nunze apostolico in brasile colgo l'occasione per dirvi che abbiamo iniziato iniziato una cooperazione con la università di bergamo sono stato invitato dal professor michele brunelli all'università dove abbiamo fatto alcune lezioni in ambito di cooperazione internazionale la notizia bellissima è che il professore invierà due ragazzi con noi in kenia a cavallo tra aprile e maggio per iniziare un'esperienza con noi questi ragazzi si prepareranno per dieci giorni e poi faranno il viaggio di altri dieci giorni con don gigi e alla fine parteciperanno alla stesura del libretto che andrà a arricchire la nostra collana volte di speranza speriamo questo l'auspicio che ci facciamo stasera speriamo che diventi realtà da lugano un caro saluto emanuele